Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Il tema principale in questa puntata è quello delle aree interne, lo sviluppo, la sostenibilità e il sostegno, in questo senso anche da parte dei contributi che arrivano a livello europeo. La Regione ha fatto il punto della situazione su questi temi, lo ha fatto anche il Consiglio regionale con la commissione dedicata. Vediamo quali sono stati gli ultimi sviluppi a proposito. Musica Farsi carico nell'interlocuzione con il Governo e per quanto di propria competenza nell'indirizzare un adeguato livello di risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo delle aree interne, almeno proporzionale al peso che tali territori rappresentano complessivamente per la Toscana, ovvero circa un terzo dell'estensione complessiva del territorio regionale, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei comuni e le loro priorità rispetto a interventi di salvaguardia del territorio. È quanto chiede la risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, illustrata dalla Presidente della Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne, Marco Nicolai. Il Recovery Plan è un'opportunità storica per il nostro Paese, ma è un'opportunità storica anche per affrontare il tema della diseguaglianza tra i territori, tra i centri urbani e le aree più periferiche. Da questo punto di vista il Recovery e l'esame che abbiamo fatto in Commissione presenta molte opportunità, il Piano Nazionale dei Borghi, la questione della connettività, il rilancio dell'attività turistica, un nuovo modello di sanità territoriale. Noi per raggiungere questi obiettivi e per intercettare queste risorse abbiamo innanzitutto delineato per la Giunta regionale un obiettivo. Se in Toscana, nelle aree interne, è concentrata un terzo della popolazione regionale, l'obiettivo che ci dobbiamo porre è che un terzo delle risorse che arriveranno in Toscana dal Recovery Plan siano destinate alle aree interne. È un obiettivo ambizioso, ma è un obiettivo necessario. Per raggiungerlo abbiamo delineato due obiettivi di medio termine. Il primo, la Regione si deve strutturare per dare una mano ai comuni, perché senza progetti non si intercettano i finanziamenti. Quindi noi chiediamo alla Giunta, al Presidente, di strutturare un'unità di missione, un coordinamento che faccia da punto di riferimento su questi temi in regione per le province e i comuni della Toscana, ma anche per i progetti che dovrà presentare la regione. L'altro, se i comuni e soprattutto i più piccoli ci dicono abbiamo difficoltà di bilancio nel finanziare l'attività di progettazione, questi comuni rischiano di essere tagliati fuori da questa opportunità e quindi occorre come Regione mettere in campo un fondo per sostenere l'attività di progettazione, perché appunto queste risorse non è che verranno paracadutate sui territori, verranno intercettate dai territori se ci saranno dei progetti e quindi noi dobbiamo mettere in condizione la Regione e gli enti locali di avere progetti chiari, definiti e avanzati per poter intercettare questa opportunità che veramente è di portata storica per il nostro Paese. Mi fa piacere che all'interno di questo documento sia stata recepita una proposta del collega Veneri e del gruppo di Fratelli d'Italia che chiedeva di investire anche per il superamento del Digital Divide, io continuo a sostenerlo da tempo, una Regione degna di tale nome che vuol guardare al futuro, vuol pensare di affrontare le tematiche importanti del futuro, non può pensare che ancora oggi esista all'interno del proprio territorio, esistano aree differenti da un punto di vista della copertura digitale. Oggi siamo in una situazione per la quale due bambini che nascono oggi, che vengono alla luce nello stesso istante, uno che nasce in una città importante, uno che nasce in un comune, magari montano, magari di qualche area interna, per tutta la vita avranno opportunità differenti, non avranno le stesse opportunità, non potranno mettersi in gioco alla pari sfruttando le stesse opportunità. E questa è un'ingiustizia che non può essere accettata in una Regione che guarda al futuro. Siccome i soldi del Recovery Fund non sono soldi che ci vengono regalati, e questo è bene che anche i nostri colleghi della maggioranza se la mettono bene in testa, perché abbiamo sentito tante volte dire, eh ma abbiamo questi soldi da spendere, no, abbiamo questi soldi da investire, perché 360 miliardi dei 750 che arriveranno andranno restituiti all'Europa da ora al 2058, quindi o si fanno investimenti che da ora al 2058 riportino sul territorio dei fondi che servono poi a restituire anche questi soldi, oppure ci andremo a indebitare. E quello che oggi sembra un regalo, un domani potrebbe diventare un incubo. Parliamo anche di carceri, ci occupiamo del garante dei diritti dei detenuti a livello regionale in Toscana, la sua attività al vaglio dell'aula con il 2020 che è stato un anno molto complicato anche e soprattutto a causa dell'emergenza da coronavirus. Allora cerchiamo di capire proprio le opinioni dei consiglieri e questa attività fatta e portata avanti dal garante dei detenuti nel corso del 2020 che è stata approvata, soprattutto è stata ritenuta fondamentale per i diritti dei carcerati. Ok dal Consiglio regionale ad una proposta di risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta e i risultati conseguiti dal garante toscano dei detenuti nel corso del 2020. L'atto, che ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza, Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto, ribadisce anche l'impegno a contribuire attraverso tale organo, ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati. Il dottor Fanfani, il nuovo garante per i detenuti della regione toscana, ha illustrato nella prima commissione l'attività nell'anno 2020, mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti collegati al sistema carcerario detentivo della nostra regione. Lo ha fatto evidenziando come la Toscana, sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento degli istituti penitenziari, ci sono alcuni istituti penitenziari sovraffollati, altri invece che sono in ipoaffollamento, però la regione toscana rientra nella media nazionale. Si è molto riflettuto anche sulle due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le due REMS che abbiamo in Toscana, quella di Volterra e quella di Empoli, e anche di tutte quelle misure che vengono adottate anche in altri luoghi di detenzione che sono restrittive della libertà personale. Si pensi soprattutto ai servizi che operano il contenimento collegati ai TSO, i trattamenti sanitari obbligatori, o ancora le RSA o le RSD quando diventano comunque luoghi nei quali viene scontata una pena. Tutto questo ha bisogno anche di dotazioni adeguate e infatti nella relazione resa dal garante c'è un'attenta disamina anche delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari della regione toscana e anche degli altri luoghi di detenzione, come ad esempio le camere di sicurezza istituite presso le forze dell'ordine. Un rilievo particolare merita la figura del garante per i detenuti a livello comunale, c'è un invito da parte del garante regionale a far sì che tutti i comuni indichino il loro garante comunale per garantire al meglio l'operatività e il raccordo tra i livelli locali e il livello regionale. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione che esprime apprezzamento per l'attività svolta dal garante nell'anno 2020 e ha assunto anche l'impegno di dotarlo delle strutture necessarie per rendere effettivo lo svolgimento della propria attività. Il garante dei detenuti è una funzione importante che noi sosteniamo, un'iniziativa importante è quella di tutelare coloro che sono nelle carceri. Ricordo bene un lavoro svolto negli anni precedenti quando anche da Presidente delle Commissioni di Sanità ho introdotto e agito per tutelare la condizione di salute e di vita di coloro che sono detenuti nei nostri carceri con delle visite costanti ma anche con iniziative e questo lavoro sta proseguendo e credo che sia un dovere delle istituzioni toscane essere presenti anche nelle carceri e ricordo la questione del carcere di San Gimignano dove siamo stati in grado fondamentalmente anche dal nostro osservatorio di incidere rispetto al ripristino le condizioni anche di legalità all'interno delle carceri. Chiudiamo con arte e cultura con Urbanology ovvero una fusione tra architettura e fotografia che sarà in mostra alla prossima Biennale di Venezia, un progetto tutto toscano presentato proprio in consiglio regionale. Vediamo. È stato presentato in Palazzo del Pegaso Urbanology Pinocchio Architetto, un progetto che coniuga architettura e fotografia e che sarà ospitato nel padiglione italiano alla Biennale di Architettura di Venezia. Si tratta di una rilettura inedita e particolare del paesaggio toscano che coglie le analogie tra architettura e fotografia, proponendo anche una rilettura delle avventure di Pinocchio grazie al coinvolgimento della fondazione Collodi. L'opera, realizzata dalla fotografa Irene Taddei e dall'architetto Massimo Gasperini, è il racconto di un percorso partito in maniera quasi casuale anni fa e poi cresciuto nel tempo ma che rimane aperto per ulteriori sviluppi ed esperienze artistiche. È un connubio molto forte di analogie formali che vanno a raccontare quello che è l'architettura e il paesaggio in Italia e nel mondo. È nato in maniera molto particolare diversi anni fa dalla scoperta all'interno dei nostri archivi di immagini molto simili e quindi ci siamo messi in maniera coscienziosa a vedere quanto queste analogie fossero forti. Da lì è nato il nostro progetto che è andato a crescere negli anni e che quest'anno, con il nostro grande orgoglio, è stato accolto all'interno della Biennale di Architettura di Venezia nel Padiglione Italia e lì chiunque andrà potrà vedere questo bellissimo video che è stato girato in parte sulle nostre immagini e i nostri disegni, in parte all'interno dell'ex manicomio di Volterra. Quindi andando a rendere più omogeneo e più strutturato tutto il video è venuto fuori un terzo progetto secondo me molto importante, quindi il rapporto disegno e fotografia e il video. È un progetto nato per caso e come tutte le cose nate per caso, quindi non premeditate, non costruite, ha avuto degli esiti positivi, inattesi. Il progetto, confluito adesso al Padiglione Italia, accolto dal curatore Alessandro Melis, sotto forma di un video, avrà ulteriori sviluppi. Noi auspichiamo che con i nostri ausili, con i nostri sponsor, con i nostri sostenitori, che sono permanentemente sostenitori toscani, locali, possiamo portare questo progetto in mostra, possiamo proporlo a livello trasversale coinvolgendo ovviamente anche altre esperienze artistiche. È un progetto artistico, è un progetto artistico sui loghi dell'architettura, del paesaggio antropizzato e soprattutto della città. Racconta quindi di costruzioni, racconta anche di disagi urbani, racconta altresì di disagi sociali. Speriamo che questi argomenti, tradotti appunto in disegni miei e fotografie di rene, possano come dire dare altri spunti su questo tipo di riflessioni, auspicando in un futuro migliore. Questo è esattamente l'esempio di come la Toscana può fare bella mostra di sé. È un modo per rappresentare la bellezza, la qualità della nostra regione. Ringrazio l'architetto Gasperini e la fotografa Irene Taddei per questo lavoro che porta la Toscana all'interno della Biennale e che ha la capacità di saper rappresentare anche un'idea di futuro, di come tenere insieme quello che è il racconto della nostra regione. Non è un caso che oltre la parola urbanologi ci sia anche Pinocchio. Pinocchio è un simbolo della nostra Toscana e l'esempio di come la Toscana viene vista e rappresentata nel mondo. In questi mesi noi abbiamo perso la possibilità di far germogliare nel nostro cuore la bellezza che solo l'arte può trasmetterci. In questi giorni invece siamo ripartiti e sono felice di poter ospitare in Consiglio regionale questo momento perché dà esattamente la rappresentazione dell'idea che abbiamo in mente. Una Toscana che vuole ripartire, vuole partire dalla sua arte, dalla sua storia, dalla bellezza, dalla cultura. Una Toscana che vuole uscire dai propri confini e vuole andare nel mondo. Quindi ancora grazie a tutti i soggetti che hanno contribuito affinché potesse esserci questo momento e davvero che sia di buon auspicio per la ripartenza della nostra regione e per la possibilità che la Toscana insieme cresca nel mondo. È davvero tutto. La nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui. Vi ricordo che potete sempre seguire anche online tutti gli sviluppi, tutte le notizie sui lavori dell'Assemblea regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it Grazie per l'attenzione e buon proseguimento su RTV38. Arrivederci. Grazie a tutti.